Maria, hai affrontato la piazza, l'hai aperta con il 5 e quindi hai messo subito la giostra in discesa per il tuo quartiere? Era il nostro progetto, sì, da quando ci sono state le prossime delle carriere, tentare di ripetere quella giostra che facciamo a posto dell'anno scorso, insomma ci siamo riusciti. Napoleone è un fenomeno, io sono grato perché è un cavallo eccezionale e senza di lui sicuramente non ci ha fatto questo. E comunque è tornato un'altra volta qui al quartiere, ancora una volta affacciata alla solita finestra, alla solita terrazza, con quell'enormità di gente che c'è anche stasera. Ci si prende gusto, non passa tutte le volte l'emozione incredibile perché anche chi credeva che il rischio era che potessimo essere appagati, questo rischio non esiste perché noi tutto il governo siamo lì, a lavorare e a sacrificarci per il quartiere, quindi quando vinciamo il premio, ecco, festa grande, siamo senza dubbio ricompensati tutti i sforzi.